La ragione giuridica cambia, la personalità giuridica dell'Arin, cosa cambia per i cittadini napoletani? Cambia molto, l'acqua non è più in pericolo, non potrà mai andare nella disponibilità di multinazionali, che l'acqua a Napoli è pubblica, accessibile a tutti, che viene gestita con criteri di trasparenza, ovviamente a garanzia totale della salute pubblica, con il controllo dei costi, quindi credo anche un messaggio importantissimo di come si passi da una società per azione a un'azienda di diritto pubblico, quindi pubblico, quindi acqua come bene comune, questa è la grande novità di questa operazione, che è unica nel panorama nazionale e da questo punto di vista è in corso anche la possibilità di internazionalizzare questa esperienza, proprio ieri che ho visto Joe Spen, ho parlato della possibilità di un gemellaggio sull'acqua bene comune con il comune di Parigi. L'Arin diventa una controllata del comune di Napoli? L'Arin diventa un'azienda di diritto pubblico, quindi avrà tutti i crismi e anche l'autonomia dell'azienda di diritto pubblico, fermo restando che l'acqua è l'acqua del comune e l'acqua del sindaco.